Mettile! Su! No, non ti sbaglio, te morire. Mettete le armi a terra! Non mi arrabbi speciali, fermi! Non mi arrabbi speciali! È ricercato per terrorismo! Mettetemi giù! È ricercato per terrorismo! Accidenti che caccia quelle donne! Signore! Alta, ascoltami! Ascoltami! È pericoloso! Lasciala ammanente qui! Fermi, fermi! È sotto controllo! Via le armi, forza! È sotto controllo! Ok, ok! No, 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 tutti giù! State giù! Giù, giù! A riparo! A riparo! Guida tu! Cosa? Ah, non, 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 non! Su, 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 su! Vai, accelera! Su, 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 su! Vai, 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 vai! Sì, molto bene, molto bene! Vai dritta, vai dritta, vai! L'auto, auto! Ora arriva il piede dal freno e accendi l'auto Ehi, 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 cosa, co, cosa fai? Smetto, ne ho abbastanza Fra un po', ora ci danno la caccia Sì, no, guarda! Su, al volante, guida tu! Chi è quella persona? Non ne ho idea! Come stai? Riparliamone alla fine! Oh, beh! Niente, niente, è solo... C'è qualcuno che non ci dà la caccia? Seminiamo questi tanti Mi scuterò, accidenti! Non ci dicono anche gli scuterò, non ci dà la caccia! Ehm... Mi scuterò, non ci dicono! Sì, ne lo compilità! Sì, ne lo compilità!